ciao a tutti eccoci in questo nuovo video oggi siamo qua su fifa mobile finalmente dopo tanto tempo è arrivato l'aggiornamento di carnevale su fifa mobile e appunto hanno messo un bel po di cose tra cui questi pacchetti qua vediamo se c'è qualcos'altro qui ha sempre questi con i punti coriandoli che io ce ne ho solo 25 quindi non posso aprirlo nessun aprire nessun pacchetto qui poi abbiamo quelli delle maschere che ci stanno questi qua ma non posso nemmeno aprirli perché non ce ne ho tanti appunto di cioè ce le ho stemonite però non è che mi va tanto di spenderle perché non si trovano per forza giocatori almeno credo ad esempio qua che mi da no vedete c'è solo possibilità di trovarla però se ne ho qua il risalto possiamo dire questo che è sempre l'abbonamento che ho fatto ne posso aprire altri 10 che sono comunque un altro per poi altri 10 per 50 altri 500 sono apriamo anche il pacchetto gratuito ne ho un po no niente allora andiamo un po qua e tremo diverse cose tra cui questo qua del mese di febbraio che l'ho già ritirata per oggi poi abbiamo qua per ora gli eventi che non so ancora bene che mettere e poi abbiamo questo qua il carnevalcaccio che a sfilata sono riuscito a prendere lui appunto come vedete gerson che è 85 costato 3 germania ce n'è solo una qua non la posso fare perché ce ne vogliono 3 e quindi questo è appunto giocatore che ho preso mi ha fatto alzare la squadra ho cambiato modo di del 89 vedete ci appena diversi fuori classe 90 più abbiamo ovla chi importa che è il 93 in difesa abbiamo un mese 90 danni alves 95 in attacco abbiamo che siamo randronato 93 e gerson 90 appunto quindi la nostra squadra di valutazione 89 quindi fra poco saremo 90 qua pure ci sono quasi per la nuova divisione perché a finisce oggi tra l'altro no a si un'ora 36 minuti e questi sono i secondi si finirà oggi avremo anche il premio appunto qua mi sa che non possiamo aprire niente infatti ce n'ho solo 15 e quanto manca un'ora e 35 minuti a vedere queste sono le cose quindi nuove che sono successe in su fiammobile per ora e un po campagne se possiamo prendere qualcosa qui sono ancora 5 non posso prendere niente andiamo qua campione e non possiamo prendere niente nemmeno qua e allora facciamo qualcosa qua all'incontri live ovvero gli eventi live e facciamo questo vinci 150 partite nemmeno qua quindi non possiamo fare niente e allora facciamo qualcosa qua all'incontri live ovvero gli eventi live e facciamo questo allora qua metto juventus vediamo un po se magari per la prima volta riuscirò a azzeccare tutti i risultati cioè se riuscirò a indovinarli va bene andiamo avanti va bene andiamo avanti gullo il primo gullo di gerson tra l'altro vai zardes vai zardes lo sapevo non riesco a segnare come è stasera come oggi non riesco a segnare ecco nooo zardes dai meno male quasi un'altra traversa ok siamo a 3 su 3 non ce l'abbiamo fatta fare questa per prima andiamo a fare questa io direi che metto Real Madrid dato che sarà motivata per la vittoria che ha fatto in 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 champions contro il pari san germen forse si è un po' risvegliato quindi metto Real Madrid qua andiamo un po' di oddio vabbè poi tra l'altro oltre a questa cosa di carnevale non hanno aggiunto nuove cose vabbè avevano messo una cosa giusto così per San Valentino però durata proprio un giorno veramente c'erano dei giocatori forti però non sapevo come si ottenevano le cose per questi giocatori e quindi non ho fatto niente non so adesso poi sicuramente come vedete ogni tanto aggiungono nuove cose quindi sicuramente adesso alla fine di il calendario di febbraio e del carnevale metteranno nuove cose qua mettiamo Borussia Dortmund che anche ha vinto in Europa in Europa League contro l'Atalanta e quindi sicuramente farà credo anche in campionato una buona partita speriamo che indovino i risultati speriamo che indovino i risultati poi quindi che cioè da quando c'è stato appunto questo momento che hanno messo questi incontri mai sono riuscito a prendere un giocatore mai altri premi sì perché qualcuno le ho indovinate a volte ah no un giocatore invece sono riuscito a prenderlo ah però era quella più facile dove c'erano tutte le partite quelle inglesi quelle per Santo Stefano e l'hai riuscito a prenderlo uno ma perché ce ne erano diversi che costavano poco in quel caso erano tipo una ventina di partite da mettere risultato dai oh mi vuoi far fare sto goal vai Zardes goal 3 su 3 è l'ultima non lo so l'ultima dovrebbe essere una un po' più difficile hm inizia Nanz vabbè io metto inizia qua comunque non ha vinto però ho fatto una buona partita in Europa League quindi farà credo anche una buona partita in campionato spero più che altro beh contro il Nanz non so che se credo che possa vincere tranquillamente questo 3 su 3 fatto subito proprio meno male che mi scoccio a farlo un sacco di volte bene questo è quello che volevo farvi vedere spero che vi piace la mia nuova squadra ditemi se vi è piaciuto questi eventi che hanno messo questi del del carnevale se vi è piaciuto inoltre se vi è piaciuto questo nuovo video iscrivetevi e lasciate un like ci vediamo ciao a tutti i ciao i i i Perfetto 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 Perfetto